Musica Buona domenica, bentrovati al consueto repilogo delle notizie più importanti della settimana. Cominciamo dal lunedì 3 febbraio. Lega Ambiente ha presentato a Palermo Pendolaria 2019 il rapporto annuale sul trasporto ferroviario in Italia. Musica La Sicilia è tra le regioni prioritarie di investimento per i fondi europei. Noi dobbiamo migliorare soprattutto la capacità poi di spenderle queste risorse. In particolare nel nuovo ciclo di programmazione le stiamo concentrando su due questioni decisive. L'industria, il lavoro attraverso l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Anche di questo parleremo oggi qui al rapporto pendolaria di Lega Ambiente che è decisivo, che affronta una delle questioni prioritarie della Sicilia, che sono le nostre infrastrutture, il nostro livello infrastrutturale. Spesso ci concentriamo sulla gravità della condizione della nostra rete via aria, dimenticandoci che invece il vero investimento di cui abbiamo bisogno in Sicilia è l'investimento in ferrovie. Su questo nei contratti di programma già sottoscritti con rete ferroviaria italiana ci sono investimenti importanti. Ancora una volta il tema principale poi è sbloccarli. Su questo, come sapete, è competente il Ministero delle Infrastrutture su cui si sta lavorando, anche in un rapporto da questo punto di vista, devo dire, positivo con la Regione. Il mio compito, il mio dovere poi è anche sorvegliare e controllare questi avanzamenti di lavori perché molto spesso si realizzano appunto con risorse che sono in capo al Ministero e che per troppi anni ci hanno abituati a ritardi scandalosi. Questo è un rapporto nazionale che presentiamo qui a Palermo perché siamo convinti che le due priorità del paese siano oggi le grandi città, quindi a partire da Palermo e poi soprattutto il sud. Per le grandi città e per il sud oggi sta facendo troppo poco, non c'è un progetto all'altezza delle necessità di muoversi in maniera sostenibile che nell'isola. L'Italia è spaccata in due di fatto? Sì, non solo, ma negli ultimi dieci anni, mentre l'alta velocità ha avuto uno straordinario successo al centro nord e ogni giorno aumenta il numero di passeggeri, al sud i treni sono di meno. Sono di meno sia gli intercity che i treni regionali ed è una cosa che è tutta inaccettabile. Dobbiamo investire nel trasporto pubblico, dobbiamo solo aspettare le grandi ore, dobbiamo farlo subito, mettere i treni in modo da dare la possibilità alle persone di scegliere il trasporto sostenibile. Dobbiamo ragionare in questo modo, dare la possibilità in Sicilia di avere sulle linee principali più treni al giorno, nuovi, moderni, puliti, a quel punto la gente sarà ben felice di lasciare l'auto a casa. La situazione, come sempre, purtroppo anno dopo anno, sono molto critiche, soprattutto per quelle tratte Agrigento-Palermo, Catania-Palermo, Catania-Caltagirone-Gela, dove da tempo denunciamo una situazione di grande sofferenza. Poi c'è da evidenziare una cosa, sembrerebbe, abbiamo una brutta sensazione, che alcuni problemi si potrebbero risolvere anche facilmente, con un minimo sforzo. E non si vuole fare questo, sembrerebbe che ci sia una volontà, una volontà politica, di favorire sempre e comunque il trasporto su gomma. Noi questo lo dobbiamo ridurre, eliminare, dove è possibile, perché il trasporto su gomma significa inquinamento atmosferico e pericolo per le nostre strade. e invece investire sempre di più risorse, intelligenze, interventi, progetti sul trasporto su rotaia, sia treno che tram o metropolitane. A Palermo niente più codo allo sportello per cambiare domicilio o residenza, è possibile avviare la pratica tramite una semplice mail o una PEC. Niente più codo allo sportello per cambiare domicilio o residenza da oggi, infatti è possibile avviare la pratica tramite una semplice mail o una PEC. Una procedura in pochi clic senza che ciò interferisca con il normale svolgimento di verifiche e controlli da parte degli uffici. Lo rende noto il Comune di Palermo che punta a incrementare le pratiche digitali già in aumento rispetto al passato. Nel 2019, infatti, poco meno di un terzo dei certificati è stato richiesto e rilasciato telematicamente. Circa 11.000 su un totale di 33.000 per il cambio di domicilio, cioè per lo spostamento di abitazione all'interno del Comune di Palermo, si dovranno utilizzare gli indirizzi mail cambioabitazione-comune.palermo.it oppure la PEC anagrafe-cert.comune.palermo.it Coloro che invece sono residenti in un altro Comune e intendono spostare a Palermo la propria residenza, potranno utilizzare gli indirizzi mail cambioresidenza-comune.palermo.it oppure la PEC movimentoanagrafico-cert.comune.palermo.it In entrambi i casi si dovrà allegare l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune, una copia del documento di identità di tutte le persone coinvolte nello spostamento di abitazione e l'eventuale documentazione di supporto. Una soluzione semplice spiega l'assessore ai servizi demografici Giuseppe Mattina, in linea con l'impegno per facilitare sempre più l'utilizzo degli strumenti digitali che riscuotono sempre maggiore approvazione da parte dei cittadini, tanto che ormai circa un terzo dei certificati è emesso tramite i canali telematici. Uno strumento, prosegue Mattina, sempre più utile per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come confermato per esempio dal recente annuncio dell'Inps di volere utilizzare la carta di identità elettronica per facilitare l'accesso ai propri servizi online. Il sindacolo Luca Orlando inoltre riferisce che in questi giorni, grazie al lavoro svolto dalla SISPI in sinergia con diversi uffici dell'amministrazione, si stanno studiando nuove e diverse soluzioni per facilitare sempre di più l'accesso dei cittadini nei servizi digitali, integrando i sistemi con il Sistema Nazionale di Identità Digitale Speed e testando servizi automatici che sfruttano sistemi di intelligenza artificiale e machine learning. Martedì 5 febbraio inizia un percorso virtuoso. In Sicilia Matteo Salvini a Palazzo dei Normani ha incontrato i quattro deputati regionali della Lega. E' iniziato con una visita del Palazzo Reale, accompagnato dal Presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Micicchè, il secondo giorno di Matteo Salvini a Palermo, che successivamente ha incontrato la stampa. Presentati quattro deputati del gruppo della Lega a Palazzo dei Normani, Salvini è tornato a parlare di lavori e infrastrutture per rilanciare l'economia dell'isola. Tra le opere fondamentali, a detta del leader della Lega, il ponte sullo stretto, argomento affrontato ieri con il Presidente della Regione, Musumeci. Ci tenevo ad abbracciare nel loro luogo di lavoro i quattro deputati regionali che hanno scelto, e per me è motivo di orgoglio, di cominciare questa battaglia di cambiamento con la Lega. In questa stessa settimana, dopo domani, sarò dall'altra parte dello stretto, sarò a Reggio con altri quattro consiglieri regionali che si insedieranno da qui a breve in Regione Calabria e quindi vedremo di portare avanti di pari passo alcune battaglie di interesse comune che hanno il lavoro, le infrastrutture, penso alla vicenda ormai pluriennale del ponte che va sbloccata, l'alta velocità che deve arrivare ovunque, l'agricoltura, la pesca, il turismo, alcuni temi che alla Lega sono particolarmente cari e quindi incontri positivi e costruttivi sia ieri con il Governatore Musumeci che oggi con la Presidenza del Consiglio. Una delle emergenze nazionali di cui abbiamo parlato anche poc'anzi davanti al caffè è quella della burocrazia. Solo in sovrintendenza a Palermo sono ferme sulla scrivania 18.000 pratiche, 18.000 pratiche che evase nell'arco di qualche mese significherebbero migliaia di posti di lavoro e milioni di euro di indotto e di ricchezza. Questo vale per Palermo come vale per tutta Italia, quindi un completo ribaltamento del sistema burocratico, legislativo a livello nazionale significherebbe un aumento del PIL in termini percentuali che non vediamo da anni e quindi la Lega e Regione lavorerà su temi molto concreti. Ci portiamo a casa alcuni compiti, la Palermo-Catania non può avversare in queste condizioni, sicuramente non ci mancherà il lavoro da fare. Conto di tornare presto in terra di Sicilia, magari sul versante orientale se ci riesco già questa settimana, perché con il governatore Musumeci abbiamo parlato anche di interventi concreti e penso a un intervento per Messina che da un secolo e più attende che vengano messe in sicurezza alcuni quartieri della città. Sui temi lavoro, sicurezza e infrastrutture c'è tanto da fare. La mia visita in Sicilia mi conferma nell'idea che è solo della Lega per il momento, ahimè, ma conto che sia di tutti, che l'aver abolito le province sulla carta. Aver svuotato le province di competenze, di denari e di dirigenti è stata una sciocchezza tremenda perché 17 mila chilometri di stade in Sicilia sono di competenza provinciale e ovviamente se tu svuoti le province di uomini e denari, chi manutiene le strade e le scuole? Nessuno. False diete a Cruillas, 12 denunce e sequestro da 135 mila euro a Palermo. Promettevano diete sicure e veloci, ma in realtà avevano messo in piedi una vera organizzazione a delinquere in uno studio di Cruillas. Arrivano altri sviluppi dell'operazione Laiet Diet che un anno e mezzo fa smascherò una falsa nutrizionista. Questa volta 12 persone sono state denunciate e sequestrati 135 mila euro. In azione i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che hanno dato esecuzione al decreto emesso d'urgenza dal giudice. I 135 mila euro sequestrati sono ritenuti profitto dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'esercizio abusivo della professione. I protagonisti, dicono dalla finanza, sono 12 persone già coinvolte nell'operazione iniziata nell'ottobre del 2018. L'attività investigativa sviluppata dai militari aveva consentito di sequestrare un anno e mezzo fa la sede dell'associazione Trasole e Luna Amici della Natura Cruillas, che era gestita da una messinese di 69 anni, Giuseppe Anastasi. I finanzieri hanno scoperto un vero e proprio studio professionale abusivo di dietetica e nutrizione. Le successive indagini hanno consentito di ipotizzare anche l'esistenza di un vincolo associativo stabile, risalente almeno al 2013, tra la messinese, i due figli e altre nuove collaboratrici, finalizzato alla commissione dei reati di truffa e di esercizio abusivo della professione di dietologo, nutrizionista o dietista. Giuseppe Anastasi, per tutti la zia Pina, ex dipendente dell'ospedale Cervello, aveva ai suoi ordini altre nuove donne, Estero Rofino, Maria Lopez, Concetta Santoro, Claudia Mutolo, Maria Iacona, Giovanna Gelardi, Rita Baucina, Antonina Favaloro e Cinzia Beluto. Nell'inchiesta anche i figli di Giuseppe Anastasi, Edoardo ed Eugenio Nastro Siniscalchi. Sono stati identificati circa 1.090 pazienti, di cui 55 minorenni, che si erano incautamente affidati alle prescrizioni alimentari dai membri della banda. Alcuni hanno voluto sporgere quell'era, ritenendosi truffati per essere stati convinti che la 69enne e le sue collaboratrici fossero in realtà professioniste del settore regolarmente abilitate. Dietro il pagamento di una cifra di 50 euro, spiegano dalla Guardia di Finanza, apparentemente come quota associativa, i pazienti, dopo una preliminare visita, ricevevano veri e propri piani alimentari, calibrati sulle singole esigenze rappresentate e accertate nel corso di specifiche visite. Gli ignari pazienti venivano inoltre convinti ad abbinare alla dieta l'assunzione di integratori alimentari di origine americana, venduti dagli indagati mediante il noto sistema del multilevel marketing. Alcune vittime hanno dichiarato di essere state indotte addirittura a sostituire farmaci loro prescritti con gli integratori proposti dagli indagati. Mercoledì 5 febbraio i soldi dei corsi di formazione per disabili nei conti dell'ex deputato regionale Tony Rizzotto indagato per peculato, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo anche 500 mila euro. Con l'accusa di peculato, la Guardia di Finanza di Palermo ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo per circa 500 mila euro nei confronti di Tony Rizzotto, ex deputato regionale, e di Alessandro Giammona. Avevano sottratto somme di denaro dalle casse dell'ISFORD, l'istituto formativo per disabili e disadattati sociali, ente destinatario di fondi pubblici erogati dalla regione siciliana. L'indagine nasce nel 2017 dopo le denunce di diversi ex dipendenti dell'ISFORD, nelle quali venivano segnalate irregolarità nella gestione delle somme che dovevano essere impiegate per le finalità istituzionali dell'ente, ovvero per l'organizzazione di corsi di formazione a favore di categorie tutelate per l'inserimento nel mondo del lavoro. Dalle indagini è emersa l'effettiva distrazione delle somme da parte dei due accusati, ovvero il presidente dell'ente e il responsabile esterno operazioni. L'ISFORD aveva ricevuto finanziamenti pubblici al Dipartimento regionale dell'istruzione della regione e beneficiato per gli anni dal 2012 al 2015 di fondi stanziati per i progetti dell'avviso 20 e del piano regionale offerta formativa per un ammontare pari ad oltre un milione e mezzo di euro. Operazioni finanziate anche con fondi europei per i quali vigevano tassativi vincoli di destinazione. Dagli accertamenti svolti alle fiamme gialle è emerso che il Rizzotto ha ricevuto tra il dicembre 2012 e l'agosto 2016, senza averne titolo, la somma di 32.520 euro a mezzo a bonifici bancari assegni tratti sui conti correnti della ISFORD. Ancora più gravi e vistose anomalie sono state riscontrate analizzando il comportamento di Giammona, che potendo utilizzare le credenziali di accesso ai conti correnti dell'istituto di formazione fornite agli da Rizzotto, si era autoliquidato somme per un totale di oltre 456.000 euro negli anni 2013-2017, finalizzata a compensare le prestazioni quale responsabile esterno per azioni, pur in assenza di qualunque rapporto lavorativo formalizzato con l'ente. La gestione dei fondi pubblici da parte dell'ISFORD era stata oggetto negli anni successivi all'erogazione delle somme e dei rilievi, da parte dell'assessorato regionale che a seguito di gravi ed evidenti irregolarità contabile sulle attestazioni dei conti aveva avviato le procedure di revoca dei finanziamenti. ZTL notturna a Palermo, il TAR conferma la sospensione. Il 25 febbraio la Camera di Consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare. Il TAR conferma la sospensione della ZTL notturna a Palermo, così ha deciso il Presidente della prima sezione dopo l'audizione tra Comune e Confcommercio. Il Comune aveva chiesto al giudice di dare il via alla ZTL nelle more del 25 febbraio, data in cui è stata fissata la Camera di Consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare. Ma il giudice amministrativo ha di fatto accolto il ricorso di Confcommercio. Nel decreto si spiega che pur dovendosi dare atto delle finalità di interesse generale perseguite dal Comune, l'istanza cautelare appare allo Stato e salvo ogni ulteriore approfondimento in sede collegiale, meritevole di accoglimento, tenuto conto della plausibilità del periculum prospettato dai ricorrenti nelle rispettive qualità, imprenditori, cittadini residenti nella ZTL, per cui è causa e sindacato di categoria. Inoltre si ricorda che il Comune, costituitosi in giudizio, non ha ritenuto di depositare in atti o di esibire in sede di audizione alcun documento atto a provare i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'area rilevata, nei fine settimana e nelle ore serali. Per questo motivo l'istanza cautelare può essere raccolta limitatamente alla sospensione della cosiddetta ZTL notturna. Adesso il contenzioso tra Comune e Confcommercio non sarà più esaminato monocraticamente, ma collegialmente. In questi 20 giorni il Comune avrà tempo di depositare i documenti, idem la parte ricorrente. Una decisione attesa dopo il pronunciamento dei giorni scorsi e l'udienza di ieri. Il 25, il Comune, commenta il sindaco Lelu Corlando, porterà dati e motivazioni della necessità che anche a Palermo, come in tante città, vi sia una ZTL notturna a tutela della salute dei cittadini e della vivibilità del centro. In quella sede mostreremo anche come le limitazioni del traffico non sia un elemento di danno alle attività economiche, ma anzi possono essere elemento di stimolo dell'economia cittadina in modo diffuso. Giovedì 6 febbraio, mafia ha scoperto il piano per un omicidio, scatta il blitz dei carabinieri, due fermati, uno è un boss di Balestrate. Associazione mafiosa, acquisto per lo spaccio di un ingente quantitativo di cocaina e distorsione. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato Alfonso Scalici di Balestrate, manette anche per Maurizio Conigliaro di Palermo, accusato di aver acquistato la droga in concorso con il primo. La ricostruzione investigativa effettuata dalla direzione distettuale palermitana ha permesso di rilevare significativi elementi di riscontro in ordine all'appartenenza di Scalici alla famiglia mafiosa di Balestrate, inquadrata all'interno del mandamento di Partinico. Utili elementi in tal senso si ricavano anche dalle dichiarazioni in race nel gennaio del 2019 da Filippo Bisconti, divenuto collaboratore di giustizia a seguito del fermo del precedente dicembre 2018 nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0. Concreti elementi circa la forza di intimidazione espressa sul territorio del comune di Balestrate da Scalici emergono dall'analisi delle modalità con cui lo stesso è ricorso per il recupero di somme di denaro di cui gli erano debitori vari acquirenti di stupefacente, nonché per la gestione di rapporti e la conduzione di affari con terzi. In particolare sono emersi indizi anche in relazione ad una richiesta estorsiva nei confronti di un cittadino di Balestrate, alla programmazione del furto di un auto mezzo in danno di un imprenditore di borgetto attivo nel settore vinicolo, all'organizzazione della turbata libertà degli incanti nel bando di gara che il comune indirà prossimamente per la gestione della locale villa comunale. Nel corso delle indagini Scalici emerge anche per una vicenda relativa alla programmazione di un'azione di fuoco finalizzata ad uccidere, ovvero gabbizzare un ragazzo mazzarese debitore nei suoi confronti e di fornitori palermitani, tra cui anche conigliaro, della somma di 45.000 euro a seguito della cessione di un chilo di cocaina avvenuto a due anni addietro. Per la risoluzione Scalici aveva programmato di avvalersi, oltre che di conigliaro, anche di un altro pregiudicato palermitano, premurandosi di informare di questa attività, richiedendo quindi implicitamente un'autorizzazione a procedere nel senso soggetti vicini al mandamento di Mazzara del Vallo. Operazione Povero Ippocrate a Siracusa sui falsi invali di 73 indagati, compresi 17 medici, 12 dell'ASPE e 5 dell'INPS. Pazienti sedati per apparire malati, finti parenti e false badanti che li accompagnano a visita, ma anche presentazione di falsi esami diagnostici e strumentali come TAC ed ecodoppler. Questo è il quadro emerso dalle indagini dell'operazione denominata Povero Ippocrate sui falsi invalidi dei carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della procura di Siracusa, con 73 indagati, compresi 17 medici, 12 dell'ASPE e 5 dell'INPS e il presidente della commissione medica dell'INPS. L'inchiesta ha anche fatto luce sulla dazione di Mazzette. Nell'ordinanza del GIP sono allegate le riprese video dei carabinieri sui passaggi di denaro in favore dei medici corrotti. Il sistema, secondo l'accusa, che si serviva anche dell'appoggio di alcuni patronati, prevedeva che in alcuni casi il falso invalido venisse istruito sul comportamento da tenere durante la visita di accertamento davanti la commissione dell'INPS. In particolare, al candidato alla pensione era spiegato come simulare determinati sintomi e gli erano consegnati dei referti falsificati. I finti parenti e le false badanti servivano a descrivere e confermare la presenza assidua dei sintomi simulati dal candidato. La procura aveva chiesto l'arresto per alcuni degli indagati, ma il GIP ha disposto i domiciliari solo per il neurologo dell'ASPE, Santo Cultrera, e per il gestore di un patronato, Rosaria Mangiafico. L'obbligo di dimora è stato disposto per il medico Paolo Valvo, mentre la misura cautelare del divieto temporaneo di svolgere la professione medica è stato disposto nei confronti dei medici Remo Ternullo, infettivologo, Salvatore Alfano, diabetologo, Gasper Epistritto, medico legale, e dei medici dell'INPS Giuseppe Faccio e Rosario Terranova. Venerdì 7 febbraio, 406 chili di cocaina da Bogotà a Catania, fermati due corrieri in Italia e due narcotrafficanti in Spagna, tre ancora i ricercati. Un'operazione coordinata dalla DDA di Catania contro narcotrafficanti che importavano ingenti quantitativi di cocaina nel nostro paese è in corso tra Italia, Spagna, Messico e Colombia. Sono sette le misure restrittive, un fermo per due indagati, un ordine di arresto internazionale per altri cinque, in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale, con il supporto e la collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata. Sono state fermate due persone in Italia ed eseguiti in Spagna due dei cinque arresti internazionali. Tre persone sono attualmente irreperibili. Sequestrati 406 chili di cocaina, oggetto anche di una consegna controllata da Bogotà a Catania, dopo una rogatoria della procura distrettuale etnea all'autorità della Colombia. Oltre alla Colombia, paese che tradizionalmente produce lo stupefacente, i carichi partono anche dal Messico e sempre transitano attraverso il Marocco oppure la Spagna, come in quest'ultimo caso. Gli inquirenti sono riusciti ad intercettare la spedizione ed invece di fermarla l'hanno seguita attraverso tutti i suoi passaggi internazionali, sin dalla partenza da Bogotà fino all'arrivo a Catania, dove il carico è stato bloccato con il fermo dei due trafficanti italiani. In questo modo è stato possibile ricostruire tutti i passaggi sulla via della cocaina, le complicità internazionali nei vari paesi, il sistema utilizzato per rendere difficile da rintracciare il trasporto, i vari mezzi usati in modo diverso a seconda del paese di transito o di arrivo degli stupefacenti. Una volta intercettato il carico, sono scattati gli arresti internazionali, ma mentre sul territorio europeo si è riusciti a rintracciare i trafficanti in Spagna, più difficile operazione in Colombia e Messico, dove sono ancora tre le persone identificate ma non arrestate. Il coronavirus sta diffondendo anche a Palermo paure immotivate, si registra un netto calo di affari negli esercizi commerciali cinesi, l'appello del presidente della comunità in città per abbattere pregiudizi e psicosi. Il coronavirus ha assai la gente paura di venire qua a mangiare, noi invece la roba sono venuti tutti dall'Italia, uguali gli italiani in un ristorante, non cambia niente. Io da dieci anni non vado in Cina. Inizia la settimana scorsa, quando inizia con questo scoperto coronavirus, giusto, presso i giornali siciliani le cose che ho scoperto. inizia piano e piano meno la gente, perché forse la gente ha paura sui cinesi che hanno tutti il coronavirus. Ma questa non è una cosa sbagliata, perché invece noi da tanti anni, come me, io da più di dieci anni non sono tornato in Cina. Quindi sicuramente non è un coronavirus, che c'è le cose da noi. Ma la gente è lo stesso che fa paura. Io non lo so perché con questo. Lo sapete che c'è stato un coronavirus in Cina, in una città, non c'entra niente in Italia, perché noi siamo lontani da tanto. Il cibo noi compriamo in Italia, non è che viene dalla Cina, non c'entra niente con questo virus. Noi potete venire a mangiare tranquillamente. Sono diminuiti i clienti allora? Per questo successo vengono tanti, come che sono spaventati, non vengono a mangiare per questo virus, che hanno paura per mangiare, che non c'entra niente con questo virus. Abbiamo incontrato il sindaco di Palermo, abbiamo detto che comunque questa situazione sta influenzando anche l'attività. Lui vuole ribadire che tutti i prodotti dei ristoranti cinesi sono acquistati qui in Italia e quindi i clienti italiani possono stare tranquilli. Il rischio è che si fermi un'economia che ha visto dei benefici anche per gli italiani. Nel negozio cinesi, nelle attività cinesi, ci sono anche dipendenti italiani e molti italiani, attività italiane che acquistano dei cinesi. Quindi lui vuole tranquillizzare anche queste persone che non ci sono problemi, non ci sono difficoltà. Anche gli italiani hanno, vivono e beneficiano della presenza delle attività cinesi. Questo sabato e domenica è la festa delle lanterni in Cina, la festa che conclude il capodanno cinese. Noi stiamo proponendo a tutti i cittadini italiani, come associazione Casufficina, con le scuole con cui collaboriamo, di andare a mangiare il ristorante cinese. In questo modo possiamo sia scoprire la cultura cinese attraverso la cucina, sia sfatare la paura, contrastare la paura e anche evitare che si possano diffondere episodi di razzismo come ci sono stati già in questi momenti in Italia e aiutare, sostenere concretamente i negozianti cinesi. Quindi sabato e domenica, liberamente, ognuno può andare al ristorante con amici, parenti, compagni di scuola e godere di questa serata e festeggiare insieme agli amici cinesi, dire insieme Forza amici cinesi! Sabato 8 febbraio sono ripresi i lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria Libertà all'altezza di via Sicilia a Palermo che fa parte del progetto di chiusura dell'anello ferroviario. Sono ripresi i lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria metropolitana Libertà all'altezza di via Sicilia a Palermo che fa parte del progetto di chiusura dell'anello ferroviario. I lavori erano stati sospesi a seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dell'appalto gestito dalle ferrovie. La ripresa dei lavori a seguito del subentro della nuova ditta è stato constatato dai componenti della Commissione Consiliare per le attività produttive interessata a seguire l'evoluzione della vicenda dai commercianti della zona. Abbiamo riscontrato la piena ripresa dei lavori ha dichiarato il Presidente della Commissione Ottavio Zacco che rappresenta un fatto importante sia per il completamento dell'opera sia per restituire una piena agibilità agli operatori commerciali della zona fortemente danneggiati dalla presenza di un cantiere particolarmente ingombrante. Ai commercianti ho ricordato la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni fiscali votate dal Consiglio Comunale già da anni e allo stesso tempo intendo sensibilizzare l'amministrazione perché si faccia promotrice anche presso le ferrovie di interventi risarcitori dei danni subiti dalle imprese della zona. Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha manifestato il proprio apprezzamento per la ripresa dei lavori la cui evoluzione ha detto sarà seguita attentamente dall'amministrazione comunale che anche se non responsabile del cantiere e dell'intera opera può svolgere comunque un'azione di pungolo nei confronti della nuova impresa perché nessun cantiere in via Sicilia come al Porto e al Politeama venga più interrotto o proceda a rilento. Il lavoro cambia anche noi si è svolta a Palermo la festa del tesseramento per l'UGL. Le novità di questo sindacato è che noi da quest'anno abbiamo deciso un percorso preso da diversi anni di diventare quello che deve essere il sindacato del futuro. Vogliamo essere un sindacato che comunque sta con i lavoratori un sindacato che però sta dalla parte del lavoro ma questo qua non è un'innovazione di quest'anno ma l'abbiamo già scritto nello Statuto 70 anni fa. Noi siamo il sindacato della partecipazione quindi partecipazione vuol dire comunità al lavoro compresa di lavoratori compresa di imprese compresa di tutto quello che gira intorno al mondo del lavoro perché noi crediamo che nella comunità del mondo del lavoro ci sia la soluzione a questa crisi che ormai portiamo avanti da ormai 13 anni e crediamo anche che le soluzioni date dagli altri non siano soluzioni reali perché non si è trovato. Noi vogliamo dare un cambiamento abbiamo cambiato anche il logo lasciando comunque la nostra scritta UGL all'interno ma mettendo un logo che anche poi vedendolo sta dentro a una situazione non definita nello spazio con delle lissi ma dentro un perimetro di situazioni bestambite perché noi crediamo che oggi in una situazione come dire del mondo del lavoro del mondo in generale molto liquida noi ci troviamo al centro e con i nostri valori con le nostre identità dobbiamo cercare di inquadrarla all'interno di una prospettiva per l'Italia per il lavoro e soprattutto per lo sviluppo che oggi manca e manca tantissimo in Italia. E quest'oggi la sede di Palermo del UGL appunto festeggia i 70 anni 70 anni di storia ed è proprio la festa del tesseramento esattamente oggi proprio a Palermo si festeggiano diciamo la festa del tesseramento dobbiamo dire però che questa festa è iniziata oggi io presiedo assieme al nostro segretario confederale Ezio Favetta la festa del tesseramento e verranno distribuite tutte le tessere a tutti gli segretari provinciali che porteranno la lista degli iscritti la novità di questa festa del tesseramento riguarda anche un piccolo particolare che non è così piccolo ma è importantissimo il cambio del logo nella nuova tessera e questo cambio del logo ha un significato molto particolare vorrei dire un cambiamento per tutto quello che è il mondo del lavoro perché lo slogan che è stato messo sulla tessera è che il lavoro cambia cambiamo anche noi UGL è una realtà sindacale attiva sul territorio come è dimostrato dai recenti incontri che si sono svolti proprio nella sede qui a Palermo in particolare l'incontro con l'assessore regionale della salute Ruggero Razza sì è un sindacato sempre più visibile in Sicilia è un sindacato sempre più legato al rinnovamento e al cambiamento sulla scia di quanto sta facendo a livello nazionale il nostro segretario generale Capone che con l'ingresso del 2020 UGL Cisnal festeggia il settantesimo anniversario dalla nascita in tutta Italia come in Sicilia abbiamo iniziato già alla fine del 2019 una serie di eventi importanti che si completeranno nel corso di quest'anno con diverse e tante iniziative prima fra tutte la presentazione del simbolo del nuovo simbolo che è proprio sulla scia del profondo cambiamento è tutto grazie per l'attenzione vi auguro ancora una buona domenica